Mancano solo due giorni e poi qui a Tokyo, venerdì 23 luglio, finalmente sarà dato il via ufficiale ai giochi a cinque cerchi. Un'Olimpiade che si sarebbe dovuta svolgere nell'estate del 2020 e che invece è slittata al 2021. Sono 12 mesi questi che hanno condizionato la carriera e la vita di molti atleti, in particolare di alcune donne. Ed è giusto allora ricordare chi come Elisa Di Francisca, la schermitrice, e Tania Cagnotto, la tuffatrice, che tante medaglie hanno regalato all'Italia, hanno deciso di rinunciare a questa Olimpiade e lo hanno fatto per un ottimo motivo. Sono diventate mamme. Invece c'è chi è stato costretto a rinunciarvi al sogno ai cinque cerchi, come la giocatrice di pallavolo giapponese Rina Shinabe. Lei si è dovuta arrendere a un infortunio, ma per fortuna c'è anche chi ci sarà a queste Olimpiade, come Simon Biles. Sembrava che dovesse rinunciare a questi giochi a cinque cerchi e invece ci sarà. Si esibirà senza pubblico, ma comunque lo spettacolo è assicurato. Da Tokyo, per Lanza, Francesco Lo Scalzo.